Ciao, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo con lo spacchettamento di un altro pacco proveniente dalla Sicilia. Ebbene sì, noi del sud, noi meridionali, noi terroni, siamo fissati con queste cose. E ovviamente, dal mio punto di vista, è una cosa positiva. Poi, se qualcuno ha intenzione di dire, eh, ma i pacchi sono cose che trovi? E detto ciò, iniziamo subito. Bene. Vabbè, ammortizzazione. La carta igienica funge da ammortizzatore, quindi... Poi, mia zia mi ha mandato questi panni. Non so perché, però... Per pulire. Altri panni. Ancora panni. Iniziamo con la cioccolata. Questa è caramella in nozzone intere, è extra goloso. La bellezza in nozzone intere 100 grammi di cioccolato. Sacchetti per la spazzatura. Vischetti struccanti. Provola. Salame. Di casa. Oddio. Quanta padella. Riso. Ah, il salone per le mani. Bene. Dopo quello ho comprato. Forse ho capito cosa c'è qui dentro. Ed è una cosa. Di produzione locale. L'olio! Finalmente. Insieme a un faddari. Bagno doccia. Credeva che non fosse terminato il cioccolato? No. Qua ci sarà l'altro olio. Sì, altro olio. Gnocchetti patate. Qui ci sono le uova, sicuro. Come la morte. Cioccolato fondente al 52%. Maiani. Cioccolato fondente all'82%. Maiani. Uh, il miele. La ricotta salata. Yummy. Altra pastina. Questa è buona. Cioccolato milka con oreo. 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 Vabbè. Maiani. Ah sì, ho uscire. Maiani. 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 Mi ha uscire. No, va bene. Maiani. Praticamente è una pasta all'uovo, spessa, in forma tubolare, molto, 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 molto buona E un modo buono per cucinarla è a forno con le melanzane, la salsa, basta, non ci dirunghiamo troppo E ce ne sono uno, due, tre, tre pacchi sotto vuoto Uno scontrino Le stinci Questo è un dolce tipico a carnascialesco e si devono praticamente immergere nel miele Sono troppo, troppo buone L'ignorata torta di ciana Anche questa va in messa nel miele ed è una cosa spettacolare Ultimo pacco ma non dell'importanza Direttamente dal bar delle poste di Capodorlando Pignolata messimese Una parte al cioccolato e una parte al limone Buonissima veramente Provatela se non la vediamo a provate Bene, il pacco è vuoto Il video è terminato E mi raccomando mettete un like per supportarmi E iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao